L'astro influisce in nostra vita? Sì, totalmente e completamente. L'astro più vicino a noi sono le che ci influenzano più. Per questo la scienza o la tradizione dell'astrologia. Perché? Perché la luna e il sol sono le che più influenzano a noi. Però anche tutti gli altri planeti. Sì, e tutti i milioni di planeti, planeti, estrella, galassia, nebula, tutto lo che sia, non stanno influenzando a noi, particolarmente nei nostri chakras. Quindi, questa è una cosa molto interessante, però, sono cose che tu non puoi controllare. Quindi, la cosa che io non posso controllare non mi stresso. Ok? Si possono fare alcune cose, usted sabe che io ho parlato del aggiungo, ad esempio, il aggiungo serve per controllare la tradizione lunare. E' questa non sta influenzando molto. Quindi si ha aggiungo per controllare questo tipo di cose. ma il sol ci influenzano, gli altri planeti ci influenzano, e tutto il resto ci influenzano. Che facciamo con questo? Nada. Non sta in tua mano, come la legge della gravità non sta in tua mano, questo tipo di cose non stanno in tua mano, la cosa è vivere nella migliore maniera, senza preoccuparti di questo. Grazie. 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 Grazie a tutti